Grazie 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 Grazie. 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 Martsimo, entra in Raffo di Dav17. Mezzo dall' war. In Panto contro Shit Guy è come questo. Buono, bravo. Vai. Bravo. Bravo. va bene va bene resta là resta la vista stai di massimo e non Sulla nazi. Sulla nazi. Ragazzi il cambio lo dovete fare sul pallaposta. Ragazzi. Grazie. 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 Sì! Oh, oh, guarda là, boh! Stringi, stringi! Vieni da topo, è forte! Tieni dove, tieni dove! E vicino alla baghina! Ma via, sta va! Metta, metta, vai! Sta facendo di scegliere! Stampe in spalla! Oh, wow, wow, wow! Ci sta, dai, ci sta la minu, ci sta! Oh, è il percorso del centro, però! Ma parla, ma parla, la minu, ci sta! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.